Mitra imbracciati e robustissime reti metalliche per questo rodeo. In effetti, spettatori e cavalieri sono tutti ospiti del carcere statale di Huntsville, nel Texas. La manifestazione si svolge ogni anno e mai sinora ha dato luogo al benché minimo incidente. Come vediamo, la vita sedentaria propria delle prigioni non ha arrugginito i muscoli dei cavalieri, che se la cavano non peggio degli autentici cowboys. Come al solito, i rovinosi ma alla fin fine innocui disarcionamenti sono all'ordine del giorno. Anche Tom, povero negro, va a braggiare madre d'erra. Mentre il numero 11, specializzato in effrazioni andando al suolo, medita sulla caducità delle umane vicende. Signori Galeotti, lo spettacolo è finito. Tutti di nuovo in cella, l'anno 21 per i più costanti si replica.